cardinale in arrivo a milano le ultime su milan roma franco ordine sceglie pioli ma soprattutto dov'è zang tutto questo dopo la sigla ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata del calcio secondo giovanni vi ricordo di mettere un like al video vi ricordo di iscrivervi a dna rosso nero tv è completamente gratuito cliccate se stessi iscriviti e attivate la campanella manco solamente tre iscrizioni arrivare agli 8.200 iscritti mi raccomando minimo di impegno iscrivetevi tutto gratuito in questo modo potete seguirci e essere aggiornato tutto ciò che riguarda il milano in tempo reale in anteprima attraverso le nostre rubriche giornaliere attraverso le nostre live martedì giovedì sera a proposito sera dalle 20 e 30 pre partita e post partita torno 22 45 23 circa di milan roma perché noi facciamo anche pre post partita di tutte le partite del milano inoltre vi ricordo potete rimanere in contatto con noi tramite la chat durante il video e a fine video lasciando un vostro pensiero nei commenti a cui cercherò di rispondere di prima possibile veniamo quindi al alle notizie di oggi partiamo logicamente da le notizie inerenti minar roma innanzitutto minar roma partita importante probabilmente la partita più importante del tritico di con inter e con juventus che ci affronteremo nell'arco di una quindicina 20 giorni andata le quarti finali d'europa league una partita che sicuramente non sarà facile soprattutto perché la roma è totalmente migliorato quantomeno come gioco rispetto alle tempi di murigno e soprattutto perché nella parte ci sono le centrali difensivi ci manca tomori che sono l'asse portante alla difesa del milano anche quando non è in piena forma ed è qui probabilmente l'unico dubbio che rimane la formazione in quanto il dubbio attualmente è fra chier e ciao secondo me chier è più avvantaggiato in quanto diciamo ha giocato qualche minuto anche della partita con il lecce è da più tempo che sta bene ciao è stato recuperato all'ultimo momento e quindi può darsi che venga fatto accomodare in pacchina per il resto entra benasser come avevamo detto giocherà uscirà ciukueze e giocheranno l'oftu cic rainders e benasser a centrocampo con la solita formazione quindi pulisic da destra leano sinistra giro al centro e in difesa dobbiamo averci calabria e poi al centro chier e e gabbia e all'altro sinistro logicamente serata arnandez con in porta megnano a vedere milan roma ci sarà anche cardinale presidente non presidente dati proprietario del milan che verrà la seconda volta a vedere milan roma dopo che a gennaio era già stato e ha portato bene in quanto avevano vinto 3 a 1 come si può vedere ecco cardinale che è proprietario del milan viene a vedere la propria squadra ogni tanto da altre parti questo non accade però tutto normale si parla che cardinale si venga a milano anche per parlare poi di altri argomenti si parla della seconda squadra l'under 23 si parla dello stadio si parla anche di altre cose fra cui appunto anche l'inserimento in società di comoli comoli è un presidente del tolosa che fa parte della cerchia di red bird veramente e è trappellato questa voce che cardinale verrebbe voglia di inserire questa persona all'interno città mia che sicuramente sono molto dubbiosi di questa voce secondo me milan attualmente a livello societario va più che bene in questo modo non vedo il motivo di un altro interiore inserimento soprattutto una persona che a quanto dicono è molto decisionale come può essere.com ordi veniamo poi altro argomento intanto vi ricordo che chi non l'ha messo mette il like è questo di gratuito ma ci serve a noi per fare girare maggiormente i video in questo momento fa girare video di cosiddetta di denuncia è importante quindi passiamo a franco ordine noto giornalista diciamo appassionato di milan oppure simpatizzante del milan ha scritto oggi un articolo in cui dice i motivi per cui preferirebbe la conferma di pioli alla guida del milan fa una pesa dei pro di contro sui contro parla di una serie infinita di infortuni anche gravi nella prima metà del campionato e i derby persi consecutivamente di cui l'ultimo 5 a 1 in modo abbastanza disastroso da parte dei pro invece parla di un rapporto ottimale con i giocatori di un blocco di infortuni da gennaio in poi con riduzione quasi a nulla visto che poi l'infortunità l'uno non è muscolare ma viene da contatto fisico ed è anche forse il miglior modo per poter completare effettivamente a questo punto qui un ciclo iniziato 5 anni fa con i ritocchi di 2-3 pedine importanti nella squadra titolare del milan che secondo lui sarebbero un centrale difensivo di spessore un centrocampista difensivo e un attaccante che vada a sottolineare eventualmente girù e diciamo che questo secondo lui sarebbe anche positivo proprio nel discorso che ormai pioli è a contatti con i giocatori conoscono i giocatori i giocatori conoscono i pioli in una in cui ci saranno poi europei e olimpiadi quindi una parte dei giocatori arriverà all'ultimo momento e quindi partire con un allenatore da zero con un modulo di gioco da zero eccetera in una situazione così potrebbe essere molto pericoloso l'unica eccezione il famoso ma che dicevo nell'anteprima riguarda eventualmente il nome di Antonio Conte in quel caso ordine parla che cosa in cui arriva a Santoro Conte la vera è rimane al cielo e direi e così sia perché parla anche il tagomotto ormai inviato verso Torino per la Juventus e quindi diciamo non ci sarebbero altre figure di allenatori che potrebbero fare meglio di pioli in questo momento a Milano. Diciamo che non sapete Conte posso valutarlo come un buon allenatore un allenatore più vincente a livello nazionale ma non lo vedo come un allenatore da Milano e questo lo dice anche Ordine in quanto parla diciamo se Milano fosse disponibile e non lo è a prendere Conte Conte è un allenatore che costa tanto, che è esigente, che non dà una possibilità di creare un ciclo di condurre un ciclo e quindi secondo me non ho mai creduto nelle voci di Conte sparse diciamo da vari youtuber, da vari giornali eccetera c'è chi ha detto che Conte aveva già firmato, che era già pronto eccetera gli stanno aspettando la firma di Conte e così via così come stanno aspettando la firma di Giroux che ho visto anche ieri un titolo su un giornale online in cui si parla cosa manca, credo a cacciomercato.com, cosa manca per passare di Giroux a Los Angeles e la firma beh, diciamo che è la cosa più importante, se la firma non c'è, Giroux a Los Angeles non va io continuo a essere fiducioso che Giroux rimanga per un altro anno poi vedremo chi avrà ragione, tanto manca ormai un paio di mesi circa e capiremo quale sarà la scelta che sarà fatta da Giroux nel frattempo stiamo ancora tendendo a capire cosa è successo ieri all'udienza di Zhang con China Construction Bank c'era un'udienza perché China Construction Bank voleva l'eliminazione della delibera da parte del CDA dell'Inter nel 2018 in cui si affermava che il Presidente non avrebbe appreso nemmeno un euro di stipendio mentre la China Construction Bank voleva che lo stipendio fosse, secondo le sue previsioni circa 914 mila euro l'anno, quindi un milione l'anno in questo modo nell'arco di circa 30 anni potrebbe Zhang riuscire a esercire il debito verso la banca cinese non sappiamo niente, non sappiamo se c'è stata un'udienza, è stata rimandata, cosa è successo perché nessuno a oggi, adesso che sto registrando i video sono quasi le 11 ha dato notizie, quindi boh, ecco, stiamo in attesa di avere notizie a riguardo ma continua la domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti in Udemmina ma non solamente di Udemmina, dov'è Zhang? io consiglierei di fare un hashtag, dov'è Zhang? di prenderlo virale, su Youtube, su Facebook, eccetera sì, perché diciamo che comunque vari giornali, vari giornalisti e opinionisti hanno iniziato a denunciare questa assenza del Presidente dell'Inter ormai da dieci mesi diciamo che solamente Gazzetta e Repubblica insistono a avere le visioni di un Zhang presente in Italia la Gazzetta parlava addirittura da metà settembre che doveva esserci Zhang questo è l'articolo di Davide Stoppini quindi può essere relativamente affidabile visto che Stoppini è un giornalista in adorazione dell'Inter Mario ribadisce poi a febbraio, ribadisce anche un mese fa circa che dovevano entrare in inizio aprile e anche Panorama 5 giorni fa dice che Zhang doveva entrare in Italia per la festa dello Scudetto ebbene, tutte queste vicerie positive sono state tranquillamente sconfessate da notizie sicuramente molto più certe in cui Zhang nemmeno per la festa dello Scudetto ritornerà in Italia con questo arriveremo circa 11 mesi di assenza in Italia, ma è tutto normale nel frattempo però diciamo che tanti altri giornali hanno espresso qualche dubbio su dove è Zhang ad esempio l'Espresso nel gennaio 2024 Zhang il Presidente virtuale dell'Inter Tribuna.com, il Presidente scomparso Inter, Zhang tra debito e rischio cessione il sito blog, Inter scudetto ok ma Zhang è sparito Tutto Sport a settembre, questo lo dice che parla appunto della scomparsa di Zhang Virgilio Sport, Zhang è sparito da 9 mesi Ravezzani, Presidente di Direttore di Sport Italia Inter, scusate di Sello Lombardia, Inter il Presidente scomparso Calcio 9 27 gennaio 2023, Zhang è sparito dall'Inter Calcio goal del novembre 2023, Presidente Inter addirittura qui dicono che è stato arrestato io in queste cose qui non credo, però si arriva a dire queste cose perché non ci hanno notizie certe addirittura c'è un sito dell'Inter, interlive.it, il 14 dicembre che parla, dice Zhang è uscito allo scoperto a parole ma intanto continua a nascondersi fisicamente questo non lo dico io, lo dice un sito dell'Inter, interlive.it che è abbastanza conosciuto all'interno dei siti che relazionano con l'Inter e poi tutto sport, il 28 novembre 2023, Zhang si è dato alla fuga, in Cina è sparito questa è la situazione, mi sembra una situazione che ormai è risaputa lo sanno tutti, solo chi dovrebbe controllare non lo sa quindi Federazione, Covizoc, queste cose sembrano normali si conducono indagini su capire di chi è la proprietà del Milan senza senso, inventandosi enti di diritto privato che invece siano pubblici inventandosi cose che spero che prima possibile siano chiarite ma su cose effettivamente concrete non si fa niente rivediamo il concetto, dov'è Zhang? Qualcuno ci risponda perché non è possibile che siano 10 mesi che Zhang sia nanchino per affari personali che non abbia trovato un giorno per andare a vedere la sua squadra vincere la Supercoppa a Riyadh che non abbia trovato 2-3 giorni per andare a vedere un derby col Milan o che per venire alla festa del Scudetto non ci credo soprattutto quando fino al scorso anno Zhang a meno 4-5 volte all'anno veniva sempre però è tutto normale, intanto oggi mancano 19 giorni alla scadenza dell'opzione sul terreno di Rozzano e mancano 39 giorni alla scadenza del prestito di Octree l'orologio va avanti sempre più vicino alla scadenza c'è un silenzio tombale a parte l'invenzione della Gazzetta che riguarda sia Rozzano che Octree aspettiamo, mettiamoci su un fiume e aspettiamo a vedere chi passa più o poi qualcuno passerà vi ricordo di mettere il like al video, vi ricordo di scrivere di Daniel Rossoneo TV vi ricordo soprattutto stasera i pre-post partita con noi quindi 20.30 pre-partita di Milan-Roma partita poi lo vedremo tranquillamente ovunque potete vederla su Skype, potete vederla sulla Rai anche e poi 22.45.23 post partita di Milan-Roma incrociando le dita, sperando di sorridere di aver visto una bella partita, un bel risultato da parte del Milan ciao a tutti, buona giornata e forza Milan da Giovanni ciao a tutti